benvenuti amici di mobileOS.it, quest'oggi stiamo realizzando un video con il Qbot P10 dispositivo di un'azienda cinese, stiamo facendo un video con una giornata molto assolata proviamo lo zoom, mettiamolo al massimo, un po' sgrana ma forse non tantissimo vediamo un po' i cambiamenti luminosi, mi sembrano buoni proviamo a chiudere su qualcosa di più ravvicinato qualche problemino vedete di messa a fuoco c'è però alla fine ce la fa